Le contrazioni sempre più frequenti, la corsa contro il tempo, i futuri genitori che volano verso l'ospedale in auto e il neonato che ha fretta di nascere. L'operatore del 118, contattato telefonicamente, li guida, fornisce loro tutte le indicazioni perché il parto avvenga nella vettura, non c'è altra soluzione. Potrebbe sembrare una scena da film, ma è pura realtà. È così che questa mattina alle 8.30 è nata Gianin, in via Cardinale Mezzofanti, in zona Forlanini, durante la corsa verso l'ospedale. Dove sicuramente avrebbe preferito partorire la donna, 36 anni, l'infermiere della REU, contattato al telefono quando si è reso conto che non ci sarebbe arrivata, ha consigliato alla coppia di fermarsi e attendere l'arrivo dei soccorsi. Al telefono li ha aiutati e ha assistito la 36enne. La bimba sta bene. Arrivati i soccorsi, mamma e figlia sono stati portati alla Macedonio Melloni, che proprio ieri è diventato il primo ospedale in rosa. Quale migliore occasione per celebrare la notizia?